buonasera a tutti e benvenuti in questa ultima puntata prima di natale di ex viaggio nel movente che cambierà nome come avrete visto almeno il lunedì parleremo di i crimini classici no quelli che ci avete sempre richiesto quindi abbiamo aperto una sorta di nuova rubrica un nuovo programma chiamato crime doors ok i sentieri del male dove ci concentreremo in particolare modo su tutti i casi storici quelli che ci avete come dicevo sempre chiesto quelli che destano maggiore attenzione curiosità e quindi proprio stasera vi porteremo uno dei casi che ha fatto tanto tanto discutere quindi in questo percorso che faremo insieme per tutto il duemila e ventitredi questa sera vi daremo un breve assaggio a fare un approccio un pochino diverso rispetto al solito quindi andremo a sviscerare quelli che sono casi ovviamente sempre reali con la scena del crimine in dettaglio stasera vi faremo vedere in che modo noi tra virgolette un pochino lavoriamo a questi casi quali sono le domande che potenzialmente ci poniamo e quindi in che modo approccieremo sempre durante le nostre puntate ovviamente questa avventura che continua con voi su twitch ha come fondamento ogni vostro suggerimento ogni vostra richiesta e quindi cercheremo di esaurire da contentarvi in tutti i modi quindi approfitto per salutarvi tutti grazie per il bentornati e speriamo che questa diciamo nuova modalità questo nuovo programma possa piacere un po' a tutti e che continuate anche a seguirci su twitch spiego un attimino che cosa accade il giovedì andremo con il nostro rotocalco crime di viaggio nel momento classico dove fondamentalmente affronteremo i casi eh di interesse attuale no? Quelli che fanno discutere i giorni nostri mentre su crime doors affronteremo tantissimi casi sia casi passati che tra virgolette anche recenti che possono aver avuto anche una risoluzione ma ci addentreremo proprio a sviscerare i motivi anche forse un po' cruenti quindi già vi anticipo che le puntate di gennaio saranno vera very strong ok quindi stasera vediamo un breve assaggio e ci vediamo tra qualche minuto grazie a tutti buonasera buonasera a tutti eccoci allora rispondi di voi conosco del caso di oggi vediamo un po' eh non ci risponde nessuno no è un po' datato come caso eh eh sì però è molto interessante io ah io no perfetto è perché è un cold case quindi non c'è una soluzione quindi potete già arrivi anche esatto hai detto che tutti i casi abbiano una rilevanza mediatica magari come tanti altri è vero che è passato tantissimo tempo poi purtroppo alcuni di essi vanno a cadere un po' nel dimenticatoio no? Eh e quindi è il caso ogni tanto che vadano rispolverati e fatti un attimino riaffiorare anche per analizzarli appunto insieme e e disquisirne in merito a luglio saranno passati esattamente trent'anni dal diciamo è perché è perché all'epoca comunque a parte gli speciali che faceva Carlo Lucarelli di quel chi l'ha visto non è che ci fosse tutta questa attenzione no sulle trasmissioni crime ancora al pomeriggio andavano le telenovelas diciamo sui mediaset quindi diciamo che c'era proprio poca attenzione adesso invece ovunque si parla di cronaca tristemente perché ogni giorno c'è un caso nuovo però eh da una parte diciamo a volte ne parlavamo proprio ieri al master e e parlavano proprio del fatto che l'attenzione mediatica e i suoi pro e i suoi contro però se andiamo a volatare in alcuni casi probabilmente senza la pressione mediatica eh alcune avremmo avuto diciamo risvolti diversi per alcuni casi e invece a volte magari si cede il mostro quando non c'è quindi è un'arma un po' a doppio taglio. Allora io vi faccio una premessa no perché come vedete questo delitto l'hanno chiamato in tantissimi modi il delitto della porta chiusa della stanza chiusa della camera chiusa ma in realtà che cos'è un delitto della stanza chiusa cioè può essere un po' forviante il titolo perché sembra quasi che questa persona sia stata uccisa in una stanza chiusa quindi dall'interno non ci sia no non è nulla di tutto ciò si configura come delitto della camera chiusa a qualsiasi tipo di giallo che non abbia individuato un colpevole entrare e uscire da un determinato luogo in pratica è quello che tra poco vedrete è quello che è capitato nel caso di maracalisti cioè ancora ci si interroga su chi potenzialmente abbia colpite come abbia fatto ad agire con quali modalità perché vedremo che è molto particolare questo caso cioè dove è successo cosa è successo fondamentalmente e ve ne andrete tantissimi con tantissimi interrogativi purtroppo questa sera perché ripetiamo è un delitto rimasto e risolto e potenzialmente visti i presupposti tutti gli elementi che siano oggi resterà tale ancora quindi sono passati trent'anni ma ne passeranno altrettanti senza potenzialmente una soluzione anche se stasera forse qualche piccola idea qualche piccola pista possiamo intraprenderla ma non ci porterà assolutamente perché valentina hai letto tutto il fascicolo no allora praticamente tante fonti sono state prese leggendo ecco tante notizie ascoltando tanti documentari è uno guarda uno dei delitti che mi ha colpito più di tutti insieme a quelli che insomma ho trattato nel libro che ha citato poco fa giovanni perché come anticipato lui è un delitto un po anomalo non si configura molto spesso non è molto frequente quantomeno fino ad ora perché per l'appunto in questa tipologia di omicidi non è tanto magari arrivare all'omicidio all'offender quanto piuttosto capire come sia fatto ad entrare ed uscire da un luogo che comunque è delimitato è ristretto ok ora se posso entrare già nel dettaglio quindi allora forse è meglio che prima rassumi la storia perché allora spieghiamo un attimino chi è la vittima fondamentalmente maracalissi il nome l'avete visto è all'epoca aveva 36 anni ci troviamo nella notte tra il 14 e il 15 luglio del 1993 a toni in provincia di perugia le cause di morte sono state identificate non è ferita all'emito raccedestro dopo entreremo ovviamente in dettaglio allora vale nelle tue ricerche tu avrai trovato sicuramente tantissime testimonianze su chi era mara cioè cosa ricordi che cosa ci vuoi raccontare insomma della dell'autopsia psicologica anche dal profilo vittimologico insomma della della mara eh si sono insomma delineati vari profili di questa di questa donna mi faccio un preambolo eh cioè eh mara era innanzitutto una ragazza eh molto molto attiva era una donna fortemente indipendente eh non aveva portato a termine eh l'università ma lavorava all'interno di uno studio legale part time e siccome era una donna comunque intraprendente volitiva per mh guadagnare di più mantenersi ancora di più faceva con doppio lavoro nel pomeriggio in una ditta di polizie una famiglia la sua assolutamente tranquilla normale viveva a casa con il papà la sorella e la famiglia di di quest'ultima e eh comunque conduceva apparentemente una vita tranquilla cioè non si addensava nessun dubbio all'orizzonte sulla propria sulla propria vita sia lavorativa che personale ripeto una donna piena di interessi di hobby eh che non lasciava proprio il tempo scorrere così doveva essere sempre occupata quello che però poi quando ahimè è successo il fatto eh è emerso eh è quello che eh questa ragazza comunque ultimamente aveva sotto dal punto di vista sentimentale una vita un po' come dire movimentata con vari 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 un po' ombre punti interrogativi era una comunque una ragazza che non esternava molto le proprie cose personali o quanto meno le diceva a persone molto molto ristrette e eh comunque ci testimonianze negli ultimi mesi ci eh fanno eh pensare una a una Mara molto più preoccupata rispetto a prima molto più agitata perché per l'appunto nella sua vita ultimamente gravitavano più persone anche dalla come dire della fama un po' un po' dubbia quindi questo un po' alone di di mistero è rimasto e eh ripeto persone accanto a lei la vedevano molto 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 più agitata eh del solito anche perché comunque era una donna risoluta che fondamentalmente se aveva un problema o era molto eh capace di gestirci e di arrangiarsi eh però ultimamente presentava queste debolezze per cui eh diciamo alla alla fine dell'ingresso che si notavano subito all'epoca perché comunque come diceva Vale lei era una ragazza anche un po' strafottente nel senso non non importava mai il giudizio della della gente andava in maniera molto semplice amava tipo portare le le scarpe da ginnastica non è che si curava particolarmente questo è un aspetto che vado a sottolineare perché una ragazza così semplice ma così forte all'epoca quando eh cioè quando diciamo eh nel 1993 si cominciava a puntare no un attimino anche all'aspetto fisico l'apparenza questa mare invece andava anche un pochino controcorrente era molto attiva e quindi anche se per un punto di vista politico eh Gio era un attivista politico quindi nel 1993 una personalità del genere spicca quindi quando lei comincia a mh esternare un pochino quelle che erano le sue paure rimasero impresse nel nel menti dei suoi confidenti che lei ecco si confidasse sotto questo punto di vista perché ecco mh essendo una tipa molto risolutiva voglio dire è è raro che si concedesse a confidenze un po' così particolari infatti eh negli ultimi periodi proprio con una sua amica stretta addirittura eh aveva esposto questa sua angoscia questo suo problema dice qui va a finire che prima o poi mi ammazzano la famosa frase anche se non è entrata mai fondamentalmente nel dettaglio delle proprie vicende personali si sono eh venuta a scoprire ahimè in fase di di indagini proprio per ricostruire il suo ambiente le sue frequentazioni eh il suo modo di di vivere e proprio facendo ecco questa sorta di autopsia psicologica no che non è una vera e propria scienza lo sappiamo ma va su porto delle indagini eh con una serie di testimonianze appunto eh una cerchia ristretta eh di persone a contatto con la vittima eh sono in grado di di fornire un quadro più completo e esaustivo di di quelle che erano le sue abitudini le sue frequentazioni le sue passioni i suoi obbi e quant'altro e da qui che sono emersi un po' di lagune un po' di ombre e quindi scusa la domanda Valentina ma queste preoccupazioni di Mara emersero subito durante le indagini oppure no non subito non subito assolutamente assolutamente ci fu un'amica in particolare che però appunto ricordava bene questa frase questa ecco frase che lei disse prima o poi mi ammazzano però finì là la cosa quindi è rimasta circa scritta a quella confidenza con quell'amica più stretta nulla nulla di più anche perché allora diciamo che è emersa una relazione clandestina che aveva con un uomo più grande di lei che aveva famiglia quindi era sposato aveva dei figli al contempo poi si è parlato di un altro ragazzo che comunque ragazzo che sotto dal punto di vista insomma come dire penale non era molto pulito quindi aveva avuto già qualche problemino con la giustizia ma non fu proprio concretamente identificato diciamo che questa persona che poi interrogato insomma dimostrò un alibi di ferro perché quella sera in cui successe il delitto lui comunque era a cena con la propria famiglia anche in presenza di altre persone però è emersa anche un dato più inquietante nel senso che sempre confidenze di persone alle vicine di amiche hanno portato diciamo a un fatto molto importante che avvenne qualche mese prima della sua uccisione ossia che Mara avesse interrotto volontariamente una gravidanza quindi sicuramente era una gravidanza un'aspettata non voluta e che avrebbe potuto arrecare un po' di eventuali problemi e quindi diciamo la nube si addensò soprattutto e solamente sulla sfera sentimentale perché fondamentalmente adesso come vedremo non si è ravvisato un movente preciso vero e proprio cioè nel senso in corso di tutti questi anni trent'anni che sono passati ancora un movente vero e proprio non non è emerso cioè dal punto di vista economico lavorativo non subiva comunque delle pressioni esterne non aveva problemi sul lavoro non non è emerso assolutamente nulla quindi l'unico come dire appiglio l'unica zona su cui andare a colpire indagare era proprio la sua cerchia sentimentale che comunque non era così limpida parliamoci chiaro ok certo aveva più frequentazioni e comunque non non le non le esternava pubblicamente allora facciamo un attimino subito il punto della situazione no quindi una volta illustrata quella che mara dopo ci addentreremo ancora di più non è la sua personalità per vedere potenzialmente chi potrebbe aver colpito perché come detto tu un momento è difficile individuarlo scusatemi che cosa succede però fondamentalmente abbiamo detto che tra la notte del 14 e il 15 luglio dove ci troviamo a todi spieghiamo un attimino una cosa però la famiglia di mara stava cambiando casa ok quindi era in bilico tra due case una del delitto e poi avevano una casa in campagna dove si stavano trasferendo ma mara continuava ancora a vivere nella vecchia casa e il delitto di mara avviene in quella casa lì e avviene tardissimo cioè in piena notte potenzialmente tra le tre e mezza tre quaranta del mattino entreremo tra poco in dettaglio vi spiegheremo tutte le varie testimonianze ma che succede che il padre viene svegliato il signor mario calisti in questo modo la figlia gli entra in camera gli dice questa famosissima frase babbo guarda cosa mi hanno fatto lui inizialmente non capisce addirittura vede in petto una macchia pensa che sia un pipistrello e questa cosa è rimasta un po impressa le persone e che cosa succede a un certo punto realizza che alla figlia è successo qualcosa di grave perché lei si accascia e muore quindi lei riesce arrivare nella camera del padre con diciamo questa ferita all'emitorace destro nel frattempo accende anche la luce il padre vede la scena ma non può far nulla per salvare la figlia quindi non gli resta soltanto che chiedere aiuto e quindi comincia ad urlare no in piena notte le tre quaranta del mattino qualcuno ricorda questo caso perché diciamo questo è l'aneddoto clu no che è rimasto un pochino nella storia di questa figlia che arriva in camera del papà come ci arriva ovviamente in tenuta da notte quindi aveva reggiseno e mutandine quindi era svestita fondamentalmente perché stava dormendo a quell'ora potenzialmente si può pensare si è parlato anche del fatto che indossasse una collana molto particolare aveva una collana a cinque fili di corallo se non vale errato quindi oltre a questa misa aveva anche questa collana di corallo ciò aveva portato a pensare che lei in camera avesse ospitato qualcuno eh per un appuntamento adesso dobbiamo ricorrere un attimino a quel la cosiddetta ora x la definirei che cosa è successo quella giornata prima di arrivare a questo triste esito lei fa c'è passa la giornata come eh sempre a lavoro quindi tutto regolare non c'è nulla di di particolare il il padre quella sera che cosa ci faceva visto che vi abbiamo detto che loro si erano trasferiti quella sera ritornato a dormire nella casa a Tori perché l'indomani avrebbe avuto un appuntamento con un commercialista quindi risultava comodo dormire per notare in quella casa lì ok quindi potenzialmente la giornata di Mara trascorre tranquillamente il padre a un certo punto della serata esce va a trovare la cognata e Mara eh resta a casa e eh viene a farle visita a una una vicina c'è una vicina c'è una persona che abita lì nel condominio quindi tipo prendono un caffè fumano una sigaretta fanno quattro chiacchiere fino più o meno alle undici e mezza di sera che comunque non era neanche tardissimo perché è piena estate voglio dire si fa un pochino più tardi allora in casa vivevano il padre la figlia la sorella eh di Mara col marino con la famiglia e i figli in pratica però si stavano trasferendo adesso quindi che cosa era successo eh Mara continuava ad occupare la vecchia di Moro c'era ancora rimassa lì quindi fondamentalmente eh abitava un pochino da sola in questo periodo di transizione ed era legatissima alla famiglia addirittura quando le si era paventata la possibilità di trasferirsi con delle amiche a Perugia a Perugia lei rifiuta per restare con i familiari quindi lei è molto molto attaccata eh alla famiglia e quindi eh quella sera però si ritrovano in casa solamente lei e il padre che si troverà davanti questa scena c'è la figlia che gli entra in camera con questa ferita al petto io per per il momento parlo di ferita perché c'è un aneddoto che è rimasto un attimino un pochino appeso che è quest'arma del delitto perché inizialmente il padre quasi ricorda che lei ce l'avesse conficcata nel momento in cui entrava in camera ma poi è sparita quest'arma quindi non c'è stata più più traccia quindi magari in quel momento dove passi dal pieno sonno alla veglia puoi vedere qualcosa che in realtà non esiste o in realtà è stato anche ipotizzato che qualcuno abbia tolto l'arma nel tentativo ancora di salvarla e poi l'abbia portata via perché hai detto cavolo che ho fatto ho tolto l'arma del delitto ora la nascondo c'è stato ipotizzato la qualunque su quest'arma ma ad oggi l'arma non c'è non ma un aneddoto parleremo dopo quando entreremo in dettaglio perché vi faremo vedere un pochino quella che è la dinamica della scena del crimine di tutte le macchie di sangue c'è qualcosa che forse potrebbe un attimino ricondurci all'arma e sul suo occultamento c'è un qualcosa che a me è rimasto lì appeso negli elementi nelle cosiddette evidence domanda subito diretta è stato puntato il dito contro il padre ovviamente sì certo che sì anzi è stato uno dei primi sospettati assolutamente perché chi era l'unica presenza quella notte in casa oltre a Mara il papà ok quindi è normale che i fari si sono incentrati subito su di lui è ovvio è stato il primo sospettato la cosa strana ci ha provato due volte a farlo perché l'ultimo procedimento è stato nel 2001 scusami lucia tu sei del del posto ti vedo no perché è sul pezzo è preparatissima è una collega si può dire ah ok anche che sia di lì però lei è sempre preparata su tanti casi perché ho visto che sì sarebbe stato interessante sa perché addirittura ha indagato due volte quindi se era del posto era molto anche l'occasione visto che adesso abbiamo questo nuovo spaccato no crime doors di invitarti qualche volta con noi a fare l'analisi di qualche caso anche l'occasione per dire cosa che abbiamo parlato con insomma giovanni visto ormai cioè ci seguite da ogni parte d'italia se avete anche i casi interessanti che sono successe nelle vostre regioni nelle vostre vicinanze insomma che volete approfondire possiamo affrontarle anche insieme questi questi casi studiare anche insieme parlarne proprio un col che a livelli regionali no è anche carina come idea comunque è di perugia lucia magari anche di libero le preparata su tanti casi anche molto ferrata lucia si studia studia e comunque forse è un particolare che non abbiamo ancora chiarito per chi non conoscesse diciamo la storia è appunto che e sembra che non sia passato nessuno da lì quindi nessuno ha sentito nulla raccontaci questo particolare allora c'è da dire una cosa innanzitutto la scena del crimine si presenta in maniera assai anomala mi spiego non ci sono segni di effrazione sulla porta non ci sono neanche segni di colluttazione all'interno della stanza di mara perché tutto è perfettamente al proprio posto tutto intatto non manca assolutamente nulla anche le tapparelle visto che le abitavano all'ultimo piano sono tutte abbassate quindi da lì sembra non essere passato nessuno né entrato né uscito quindi si esclude anche subito il tentativo di rapina andato a finire male ok perché comunque ripeto da casa non manca nulla addirittura appena entrati ritrovano su una sedia appoggiata la borsa di mara con tutti i propri effetti personali e le chiavi che lei comunque aveva appoggiato là appena rincasata dal lavoro quindi da lì non si sono mai mosse anche gioia in bella vista non è stato sottratto nulla nulla non è stato sottratto assolutamente nulla quindi non si pensa assolutamente ad una rapina ok non c'è traccia di passaggio di terzi non sono state trovate impronte di terzi anzi una cosa che andremo analizzare anche più tardi con il supporto di di giovanni sotto la punto di vista crimine dinamico è proprio questo fatto che nelle tracce di sangue che comunque si sono trovate si è stabilito che quel sangue comunque appartenesse solo esclusivamente alla vittima ok vuol dire anche che comunque quando lei è stata colpita uno cosa importante è stata colpita non mentre era sdraiata a letto ma mentre era in piedi ma non ha avuto il tempo di reagire perché comunque non si sono neanche riscontrati sul proprio corpo segni di difesa neanche sotto le lunghe è stato trovato del materiale biologico che comunque portasse a una terza persona un'altra cosa importante c'è da dire che comunque non ha subito nessun segno nessun abuso nessun atto di violenza quindi non ha avuto proprio il tempo di reagire che è stata colpita dal basso verso l'alto sotto il costato proprio ecco sotto il seno destro e la ferita che insomma l'è stata causata era profonda otto centimetri che ovviamente ha prodotto subito uno shock emorragico di notevole entità che ha coppito la orta diciamo esatto perché l'ha perforata insomma in due punti no e per cui il tempo di sopravvivenza dal medico legale ovviamente con la perizia tutto quanto è stato calcolato proprio in pochissimi minuti di sopravvivenza non ce la poteva mai fare a sopravvivere quindi è questo è il primo dato il primo fatto che colpisce non ci sono segni di passaggi estranei non ci sono proprio evidenti tracce di di terzi non si riesce a trovare nessuna traccia evidente che porti comunque all'intromissione di terze persone ora ci si chiede come ha fatto un assassino l'offendere a entrare ed uscire da un appartamento le pote sono state varie o che mara addirittura gli abbia aperto la porta o che questa persona poteva addirittura avere un doppione di chiavi ora però parliamoci chiaro appare assai improbabile che una persona dia un appuntamento ad un'altra persona all'interno della propria abitazione nel cuore della notte con la presenza di un altro soggetto in questo caso il papà di mara ok ci stavano tanti altri contesti altri tanti punti insomma o aspettare magari il giorno dopo perché ripetiamo che la il padre era lì per casualità quindi si era trovato proprio la sera perché aveva un appuntamento all'indomani quindi la possibilità di restare sola in casa con tutti gli uomini che voleva l'aveva sempre avuta quindi è molto strano c'erano tante altre occasioni insomma di poter eventualmente ricevere in casa propria delle persone no ok quindi voglio dire si sapeva benissimo che il passaggio dentro quella casa del papà era solamente temporaneo per pochissimi giorni proprio perché comunque doveva terminare delle delle questioni insomma amministrative burocratiche nulla di più è stato escluso anche comunque fin da subito l'atto suicidario ok quindi che non si è auto inferta la 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 ferita per cui eh l'ipotesi che è rimasta ovviamente è in piedi è quella esclusivamente dell'omicidio non assolutamente di un suicidio si è escluso totalmente proprio anche per per come è stata ehm fatta la 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 ferita no come è stata inferta la ferita avrebbe avuto hanno calcolato se fosse stato suicidio anche un altro tipo di traiettoria quindi abbiamo detto che la ragazza è scomparsa quest'arma cioè se ti suicidi potenzialmente resti lì la forza no di andare a nasconderla di andare a riporla insomma in un'altra un'altra stanza quant'altro quindi ehm mi mi auto infliggo ripeto una ferita eh e l'arma quando cade cade e dove cade ma sarebbe caduta lì vicino come non è stata colpita durante il sonno perché altrimenti il letto sarebbe stato anche imbrattato di sangue quindi lei si è proprio alzata perché si è alzata perché ha sentito dei rumori perché è andata ad aprire a qualcuno eh queste sono tante di quelle domande che ancora ad oggi allora facciamo un attimo anche uno step indietro come diceva Lucia c'è un aneddoto molto importante di quella serata prima stavamo raccontando che lei invita la sua vicina di casa a prendere un caffè e fumare le sigarette in quel frangente lì lei riceve una telefonata quella telefonata è rimasta poi sempre appresa lì non si è mai saputo non si è mai capito quella telefonata in tarda serata verso le undici e mezza eh sì poco prima che il padre rientrasse in pratica però l'amica testimonia che lei ha ricevuto questa telefonata si è sempre pensato che lei in quella telefonata abbia potuto dare un appuntamento nella tarda notte cioè questa è una delle ipotesi perché poi fondamentalmente c'è un aneddoto che non vi abbiamo spiegato in dettaglio ma è ampliamente descritto no perché purtroppo all'epoca non è che avevamo tanti strumenti investigativi tante cose quindi a volte anche sulle sensazioni ci si basava ma che tipo di sensazioni parlo non quelle motive ma proprio sensorie nel senso c'era un portone che faceva un casino bestiale cioè quando si chiudeva soprattutto se tu non conoscevi il palazzo e quindi non conoscevi il il rumore prodotto da quel portone non lo accompagnavi faceva un botto che il palazzo alle quattro del massimo si sarebbe svegliato quindi non so se vi è mai capitato di entrare in un palazzo lasciarvi il portone senza accompagnarlo ve lo chiudere dalle spalle fa c'era in bomba in una maniera esagerata ma quella notte nessuno sente nulla se non un tonfo poco prima delle urla di Mario Calista anche perché non era un condominio molto molto grande abitato quindi comunque i rumori sono facilmente avvisabili quindi nella timeline di quella notte che comunque parte da da l'uno e mezza quando il papà si alza per andare a bere a prendere un bicchiere d'acqua e comunque vede che la porta della stanza della figlia è chiusa poi si susseguono altre cose nel senso un condomino si sveglia nel cuore della notte perché comunque faccia molto caldo ma non sente nessun rumore sospetto un'altra addirittura del palazzo di fronte scende nei giardinetti di fronte visto che soffriva di insonnia fumare non nota nessun passaggio né di persone che arrivano né di persone che fanno via si sente solo quel tonfo proprio in prossimità delle urla che poi farà il papà quando scopre comunque la scena c'è da dire anche comunque se ci fosse stata una colluttazione questa aggressione vuo che questa ragazza comunque non provava a chiedere aiuto non si sono sentite mobili che cadevano liti niente nulla 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 mi stai dicendo qualcosa scusate no sì stavo dicendo qualcosa e mi sono fermata non sono riuscita a trattetermi c'era il particolare della collana però sì perché lei questa collana stranamente sicorica a letto in slip in reggiseno con questa collana anche ben vistosa insomma perché non era bella spessa era bella spessa cinque fili di di corallo e poi c'era eh tra un filo e l'altro anche qualche qualche perla insomma qualche qualche aggiunta quindi non si capisce neanche perché non l'abbia tolta eh oppure eh si sono fatti domande il perché comunque eh se si fosse alzata ad aprire la porta accompagnare la persona eh ha lasciato i propri occhiali sul comodino cosa che lei non si separava mai dai propri occhiali eh perché non ne poteva fare a meno quindi sono stati ritrovati là riposti proprio dove lei li aveva appoggiati quindi tutte quelle condizioni che lasciano presupporre che sia stata assolutamente aggredita all'improvviso eh senza quel preavviso che comunque poteva come dire lanciare urla d'aiuto tutto quanto anche perché tutte le testimonianze negano questa cosa non si è sentito assolutamente nulla c'è solo un particolare eh che ha destato qualche sostetto durante gli interrogatori dei condomini dei vicini eh una di loro eh afferma che ha sentito suonare il proprio campanello proprio vicino a quell'orario in cui è successo tutto quindi eh si è ipotizzato che se fosse stato parliamo per ipotesi perché dobbiamo parlare per ipotesi un terzo soggetto che stava scappando in quel momento si sia sbagliato a pigiare il pulsante invece di accendere il pulsante alla luce perché molti condomini bisogna che si attivi quindi pigiare proprio il pulsante abbia sbagliato concitato il momento convulso e abbia suonato il campanello di una vicina perché alcune luci diciamo nel condominio sono attaccate ai campanelli quindi tu magari poi eh nel caos perché appena dato un colpo poi tendenzialmente mortale magari eh l'ha lasciata lì nella fretta perché comunque non si è sincerato della morte di Mara questa persona potenzialmente ha dato un colpo poi nel panico è scappato anche se ci sono poi altri aneddoti strani no ci arriviamo subito perché è stato ritrovato del sangue anche in una posizione strana della casa cioè in uno dei cassetti della cucina però poi non c'era nessuna arma c'è nessun oggetto contundente imbrattato di sangue questa è una cosa molto strana che ha fatto pensare che poi l'arma sia stata occultata dopo però la cosa strana se la persona colpisce poi non va a riporre di nuovo l'arma tutta sporca di sangue no la porta via dentro mentre fugge cioè quello è molto molto strano no qualora fosse effettivamente eh cioè la modalità di occultamento no la vai a riposare qualcuno ci chiedeva poi se soffriva di sonnambulismo allora non è stata presa in considerazione questa ipotesi però quella dell'incidente sì cioè del fatto che una persona si sia svegliata all'improvviso abbia avuto anche una sorta di incubo se vogliamo si è inciampato in oggetto contundente ma poi restiamo sempre lì che fino ha fatto sto oggetto che fino ha fatto cioè nel senso non è che si è disintegrato è perché c'è quest'idea fantasiosa che qualcuno l'abbia tolto quindi l'abbia toccato si si è spaventato di essere incolpato dell'omicidio e questa è questa qualcuno forse prima non c'era ancora come diceva Monica rispieghiamo perché a un certo punto arrivano tutte le persone del palazzo che accorrono alle ore del papà si è pensato che uno di questi avendo visto ancora conficcato l'oggetto conduttente l'abbia estratto poi se lo sia trovato in mare avrebbe detto oh oh l'arma del delitto ora la nascondo perché ci sono le mie tracce su ci abbia fatto tutto questo ragionamento io lo credo inverosimile sinceramente però è tra le ipotesi si sono fatte tante ipotesi che poi alla fine devono essere circoscritte come dicevamo in apertura di puntata la 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 prima persona dove insomma sono stati puntati i fari è stato il papà però c'è da dire anche una cosa quando il papà insomma viene viene svegliato dalla stessa figlia in cui insomma con un filo di voce gli dice babba babbo guarda che cosa mi hanno fatto sinceramente lui si è precipitato a chiamare aiuto quindi prima che di sapere che comunque da lì a quel momento la figlia sarebbe ahimè ispirata però magari non poteva neanche morire subito e se fosse stato lui Mara magari potrebbe 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 dire eh è stato mio papà è successo questo quindi perché correre quel rischio avventarsi subito con citato chiamare aiuto supporto dei vicini che quasi sono andati subito da fare perché il ragazzo che era giù di sotto a fumare la sigaretta eh è corso ed è stato lui da chiamare il personale al 118 da una cabina telefonica quindi comunque il papà non ha perso tempo non ha temporeggiato e nulla quindi la domanda viene da se se fosse stato veramente lui perché correre questo rischio ehm fra le varie ipotesi diciamo l'insufficienza di prove non riuscivano ad inquadrare un movente è stato veramente scarno allora c'è da dire che magari come purtroppo e lo sappiamo tutti quanti eh le indagini non sono state fatte neanche con una certa dovizia di di particolari di approfondimento può essere successo anche questo eh indubbiamente ehm è stata non so se avete avuto modo anche di leggere nella nella presa della camera da retto del papà nell'interruttore è stata trovata anche lì una traccia di sangue ma senza comunque le impronte digitali della ragazza comunque eh lei si è trascinata fin là e quindi faccio un attimino vedere ai nostri amici qual è proprio la lo schema diciamo di casa della parte interessata più che altro che ho provato a ricostruire questa non è tutta casa è solo la parte interessata la parte rossa che vedete la camera di madre lì viene colpita anche per rispondere a una domanda che aveva fatto prima Freddy allora come avviene la dinamica lei viene colpita e tendenzialmente era già in piedi quindi non è stata colpita a letto innanzitutto perché con un taglio di quella entità con doppia ferita profonda alla orta non si sarebbe più alzata perché ti lascia veramente pochi secondi quindi lei è riuscita ad arrivare dove è riuscita arrivare nella parte invece quindi attraversa il salone principale che è la parte tipo verde poi vai in questo corridoio che è antecedente ad un bagnetto e poi c'è la camera del papà che quella lì diciamo invece lei riesce a fare questo tragitto giusto perché era in piedi perché tendenzialmente chiunque ha dichiarato che delle ferite del genere non avrebbero più consentire in alcun modo di rialzarsi di prendere l'equilibrio e fare tutto questo tragitto tanto c'è riuscita perché lei già era in poi ci sono state diciamo anche delle analisi di bpa che ricordo quella materia che studia l'entità delle tracce macchie la loro disposizione all'interno di una scena per creare anche un attimino quella che è la dinamica ed entriamo in dettaglio su questo che cosa è successo allora le macchine vengono ritrovate tendenzialmente in maniera più abbontante poco prima dell'entrata nella camera di mara oltre che ovviamente sul pavimento dove viene colpita al centro più o meno della stanza era in piedi già quindi chi l'ha aggredita la colpisce in piedi dal basso verso l'alto fino al quarto costato ok adesso poi a un certo punto temporeggia vicino ai pressi della porta perché ci sono perdite più abbondanti di sangue queste altre perdite abbondanti di sangue ci sono anche vicino alla porta dell'ingresso per il corridoio che è quella parte gialla che vedete e ovviamente poi anche in camera il papa in particolar modo anche sull'interruttore quindi lei aveva ormai le mani sporche di sangue come l'anticipato vale le uniche tracce di sangue che c'erano in casa erano solamente di mara quindi l'unica persona ferita in quel momento era mara però è molto strano che lei aveva i piedi comunque imbrattati del suo stesso sangue ma la cosa anomala di tutto ciò è che non ha lasciato timbri nonostante si sia trascinata fine in camera questa cosa è un pochino strana no se se vogliamo inquadrare un appunto di vista proprio dinamico delle tracce vicino alla stanza del papà c'erano dei delle tipiche macchie da gocciolamento no anche per la cosa di di gravità da dove è stata colpita comunque da sotto il seno eh diciamo che la 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 maggiore di sangue si appunto evidenzia vicino la il luogo in cui è stato fatto il corpo insomma la sua stanza poi cammina cammina si trascina più che altro anche se non sono state trovate eh impronte sui muri quindi non si è stato trovato neanche se di trascinamento del corpo ok quindi è un percorso che comunque eh lei ha fatto oppure qualcuno ha insinuato gli hanno fatto fare ossia che lei è stata portata addirittura in braccio in senso contrario proprio per non pestare il sangue da questo soggetto x ok quindi io ho una domanda scusatemi perché mh avete detto appunto il particolare che una ferita del genere ti lascia pochi secondi pochissimo eh quindi questa persona al di là del presa in braccio che mi sembrava come arriva viva di là no ma come io mh ferisco questa donna no estraggo l'arma che è piena di sangue e quindi io devo scappare immediatamente perché sennò va leva svegliare il papà mi sente no in questo tragitto rocambolesco come faccio a non lasciare una scia di sangue mentre porto via l'arma cioè ma l'arma che tronda dal sangue o dalla no estraggo l'arma eh me la porto scappo perché cioè la porta che si chiude eh lei pochi istanti sveglia il papà il papà può anche aver sentito il rumore può anche svegliarsi sente la porta mi può seguire io non lo so mica conosco le abitudini del padre in teoria quindi eh è un po' strano che non ci sia che non abbia lasciato una scia di sangue no non una scia cioè comunque delle macchie anche nel pianerottolo ci sono però nel palazzo no è è quello che ma anche la porta le mani non ha avuto il tempo di pulire la porta l'avrà aperta per uscire no e anche poi se lui potenzialmente ha bussato questo campanello ok quindi per nel tentativo di accendere la luce andava attento ne avrebbe sporcato le mura del palazzo no quindi se aveva le mani imbrattate una traccia la lasciava invece non ha lasciata proprio no non ci sono tracce né di trasferimento neanche di sai di proiezione di nulla proprio di nulla e questo proprio uno dei grandi enigmi che che avvolge questo caso a me ti dico la verità sorge anche molto il dubbio il fatto che purtroppo è vero come detto a Giovanni parliamo degli anni 90 quindi non c'erano tanti studi approfonditi sulla bpa e quant'altro quindi secondo me e lo sappiamo benissimo che le tracce di sangue parlano e su una scena del crimine comunque sanno già inquadrare no proprio la criminodinamica di quello che è successo e come è successo e io penso che ahimè tanti fattori sotto questo aspetto siano stati purtroppo tralasciati perché le tracce di sangue quelle potevano dare tantissime tantissime informazioni e comunque scusate continuo Valentino no 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 per dire la 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 traccia di sangue più evidente alla fine è stata definita come una traccia ematica body trail proprio che proviene dal dal corpo della vittima e che comunque la cora si è fermata proprio mentre la vittima a maggior ragione del tipo di ferita inferta ha prodotto quindi non è stato lasciato secondo le indagini nulla al caso io personalmente continuo a essere convinta non so voi che comunque invece qualcosa si è stato tralasciato perché è quasi impossibile che comunque un soggetto estraneo non lasci gli atroise delle tracce soprattutto con tanto sangue anche come diceva Guglielmo tendenzialmente il trasuglio di Occa ma se mi ci porta sulla stessa strada che avevano battuto gli inquirenti ma senza uscita nel senso che l'unica persona potenzialmente che poteva colpire in casa indisturbato senza entrare perché era già lì era il padre no perciò secondo me è stato indagato per ben due volte perché comunque la sua testimonianza ovviamente era l'unica cosa no dove lui dichiara mi è entrata ehm Mara in camera mi ha detto papà guarda cosa mi hanno fatto ma ovviamente è sempre la parola sua contro certo perché non c'è non ci sono altri che possono smentire conoscendo un po' Guglielmo credo che lei pensi alla teoria dell'incidente è vero non tanto a cioè lei pensa più che si sia trattato di un incidente che qualcuno abbia occultato l'arma sull'incidente per carità ci può stare però l'occultamento dell'arma e soprattutto vorrei sentire i ragazzi se pensiamo al momento loro in che cosa lo potrebbero ravvisare oltre un po' oppure hanno delle figure particolarmente insomma da inquadrare come potenziali offendersi cioè la loro idea eh e da restringere l'ambito familiare o extra familiare se ci fosse insomma un'amante che voleva annullarla era diventata forse un personaggio scomodo perché lei era una cosiddetta vittima a basso rischio vuol dire una di quelle persone che nella vita non è che si crea a tanti disastro almeno fino alla morte non sembrava così poi arriverà un ultimo aneddoto che non vi abbiamo detto poi avete il quadro completo e che arriverà una segnalazione dopo giorni allo studio in cui lavorava dove viene detto cercate nell'università della terza età perché lei non aveva concluso gli studi e si è riscritta a questa università per persone più grandi per concludere degli studi non ricordo qualcosa del genere qualcuno aveva indicato l'università come possibile luogo in cui cercare il colpevole ovviamente adesso avete tutti i pezzi però la domanda è chi è che corre un rischio cioè qual è il rischio dell'offendere chi ha aggredito no di arrivare l'incasera un qualcosa di premeditato effettivamente è stato tutto un incidente che cosa può essere accaduto oppure la cosa è degenerata insomma quindi è andata oltre l'intenzione iniziale diciamo quali erano questi fattori proprio così grandi da doverla addirittura eliminare uccidere personalmente non avrei visto assolutamente dall'ambiente lavorativo assolutamente no dal punto di vista economico neanche a dire che era comunque una famiglia sai abbiente particolarmente facoltosa rapina non penso proprio ma è difficile pensare che che una persona per una vendetta cioè entri in quella casa per compiere un omicidio cioè soprattutto se lei era una donna indipendente che si muoveva e stava da sola cioè potevano farle del male in qualunque modo senza correre il rischio appunto di essere visti da qualcuno di essere sentiti dal padre quindi però quello che non mi torna il motivo dell'eliminazione no perché se come sta dicendo tu io entro in casa no mi assumo un rischio altissimo molto io mi devo sincerare che quella persona muoia invece l'ha colpita ovviamente in una parte vitale però poi dopo non hai visto se questa persona effettivamente quello che dicevo io abbiamo visto tanti casi in cui si addirittura si è notta l'overkilling per chi non lo sapesse quella manovra dove tu tanto dall'odio per quella persona continua a colpirla a colpirla a colpirla gli dai anche oltre 80 coltellate dopo la morte ok di questa persona non si è neanche sincerato effettivamente del buon esito no di questo suo attacco questo è un po strano è come se qualcosa fosse sfuggito di mano e poi si è scappato cioè una cosa proprio venuta in maniera istintiva senza neanche troppa elaborazione una persona invece che ha l'intento di eliminarti di annullarti perché sei per me rischioso ovviamente siccome utilizza delle moralità ancora più incisive si assicura che la persona effettivamente sia morta e che non possa fare neanche il nome che ne so sapendo che c'era il padre di là in casa se sapeva perché può darsi anche che era ignaro no nella presenza di un'altra persona in casa ci può stare anche questo però tendenzialmente tu cerchi di assicurarti che questa persona in nessun modo possa fare mai il tuo nome o lasciare qualcosa che porti a te questa è la cosa che mi fa io ti dico una cosa a me l'idea dell'incidente non mi non mi sembra così strana perché mi soffermo anche su un altro fatto no se tu vieni aggredita da qualcuno e il primo istinto dopo che sei stato colpito soprattutto se quel qualcuno se ne sta andando credo che sia quello di urlare cioè non quello di andare fino alla stanza del padre e parlare di lì guarda che mi hanno fatto perché c'è la paura se invece si magari si tratta di un incidente e magari hai quel sangue freddo no che vai lì per chiedere aiuto perché non ti rendi conto che stai morendo potrebbe essere credo che però l'incidente cioè andrebbe chiarito insomma a quel punto magari il padre poteva anche entrarci però credo che l'abbiano essendo stato indagato due volte come scrive lucia credo che l'abbiano interrogato tante di quelle volte che se si fosse trattato di un incidente a quel punto l'avrebbe detto no ma il quadro indiziario di lui era comunque veramente scardo di elementi fondamentali assolutamente e quindi diciamo le ipotesi più accreditate alla fine è una sorta di spartiacco o la sfera sentimentale o l'unica presenza che era eh con lei in quella notte eh durante quella quella notte però come abbiamo scandagliato insomma insieme tutti quanti eh i interrogativi sono vari e i punti dubbi altrettanti Guglielmo ha una domanda interessante sulla sul suo essere attivista politico no non hanno proprio guardato in quella direzione hanno potenzialmente prima guardato diciamo in direzione familiare quindi il padre per ben due volte come avevo detto poi sono andati un attimino alla ricerca eh del suo amante praticamente ma aveva l'alibi di ferro e non è difficile pensarlo perché alle tre e quaranta del mattino sei con tua moglie visto che c'hai anche due figli a carico voglio dire quindi eri a casa alibi super ferro gli altri amanti in giro non sono stati proprio mai individuali no presi in considerazione delle confessioni tra virgolette eh fatte in confidenza con le amiche intime qui non sono stati neanche proprio mai individuati questi soggetti ok quindi eh potrebbe anche essere che dove non hanno guardato ci sia lì però comunque cose del genere novantatrice che una persona venga addirittura uccisa perché è un attivista politico è un po' difficile cioè veniamo dal periodo del gli omicidi delle grandi mafie no quindi personaggi veramente potenti venivano uccisi con gli attentati non era un personaggio così di spessore politico voglio dire ma neanche magari sai può accadere che in precedenza hai a quel hai qualche intimidazione avvisaglio a qualche cosa nulla di tutto questo era accaduto assolutamente pensate pensate in maniera macchinosa perché questo non è un caso semplice quindi va bene se tra virgolette ci facciamo le pippe mentali io ho una domanda delle ipotesi perché magari può essere anche lì la verità quindi tirate fuori che ci ragioniamo insieme perché comunque allora io ho una domanda ma il tipo di corpo contundente no sono riusciti più o meno ad avere un range no? Sì un punteruolo non era una lama non era una lama non era un coltello era qualcosa tipo un cacciavite tipo un cacciavite esatto tipo un cacciavite aveva una lesione tipo triangolare quindi qualcosa di triangolare. A direttura sei giorno non so se hai avuto modo anche di approfondirgli o te in altre fonti però non confermate del tutto si parla di sangue di mare ritrovato addirittura su una cassetta di lavoro di attrezzi che comunque il padre aveva aveva in casa però anche lì sono state fonti non molto molto attendibili da appurare però si è pensato addirittura che l'arma non fosse stata portata dall'esterno ma era già proprio all'interno della casa e presa all'interno di questa cassetta degli attrezzi bene o male. Ma io ho capito che in realtà è il cassetto degli attrezzi cioè forse stiamo parlando la stessa cosa ho capito che era il cassetto degli attrezzi perché c'era tipo come una carta craft tipo quella del pane sporca di sangue con varie attrezzi avevo capito che fosse un cassetto proprio degli attrezzi in casa. Altre fonti sì nel cassetto della cucina nel cassetto della cucina altre fonti ripeto meno appunto non è attendibili e eh parlo addirittura di sta cassetta degli attrezzi dove insomma si diceva un po' di di cose del padre però eh ma infatti perciò se me la si è alimentato anche il sospetto verso il papà eh perché questa cosa delle tracce dell'analisi venne fatta in un secondo momento riaprirono tra virgolette il caso di nuovo contro il papà perché come hai detto tu era una pista tangibile ma loro lo ripetiamo non tanto per le prove perché che cosa accadeva c'è il padre e la figlia la toccata cioè al punto di morte e post morte ma la toccata perché quando sono arrivati i carabinieri lui la stava abbracciando praticamente lì sul pavimento. Certo l'hai ispirata. di lui ce n'erano in abbondanza. Poi era anche casa sua e quindi tracce di lui c'erano ovunque. Il problema era il movente cioè non sono riusciti ad inquadrare un movente solido per poi accusare il papà. Forse al giorno d'oggi in maniera più spregiudicata uno ne potrebbe trovare di momenti voglio dire anche quelli più invisibili. Impossabili. Quelli più scioccanti. Ecco apriamo la nostra crime door questa sera quindi quelle soglie no spaventose che a volte ci fa anche paura però ad esempio nulla cioè non voglio puntare il dito contro nessuno però il movente io devo anche dimostrarlo però dire che non ce ne siano no perché potrei pensare anche a un tentativo un approccio sessuale no perché non è la prima volta che si sentono assolutamente in famiglia e quant'altro però lei essendo a grandicella ovviamente reagiva in un certo modo quindi tenere liberi di un soggetto che dopo li va contro ovviamente lungi da me accusare qualcuno però può essere anche uno scenario. Io però l'idea dell'incidente ci sta però adesso che sento un cacciavite no Guglielma dico il cacciavite io provo ad aprirmi la collana mi può cadere me lo conficco nella gola cioè un cacciavite nella parte sotto il costato anzi la ferita partiva dal più in basso dal basso verso l'alto andava tutto il seno tutto il seno il cacciavite cosa si deve cioè ci vuole proprio una gran forza tu devi cadere sopra un cacciavite che a sua volta è incastrata e tenuto in maniera molto rigida perché il cacciavite non è un po' difficile magari sai ti ferisci in maniera un po' superficiale otto centimetri sono otto centimetri di profondità quindi la forza c'è stata e non può. Se ci cadi addosso ti perfora sì e quindi è un po' difficile però tendenzialmente stava dormendo no quell'ora lì perché era senza gli occhiali per esempio ti alzi c'è il cacciavite a terra cadi c'è pure un po' strana come dinamica. No ma il cacciavite non poteva stare a terra doveva stare praticamente in piedi e doveva proprio cioè se si tratta di un incidente comunque sempre con la presenza di una terza persona. Anche perché se noi pensiamo tipo alle tracce no della BPA adesso non le conosco in dettaglio però ovviamente il cacciavite cioè deve stare sospeso in aria per determinare quel tipo di tracce da schizzo. Esatto. Quindi come ha fatto cioè se non c'è inciampata su cacciavite c'era mezz'aria sospeso. Inciampi e te lo cioè un po' cioè è difficile da spiegare poi la dinamica delle macchie di BPA nella stanza perché se tu sei in piedi e vieni colpita allora quelle macchie di quel tipo lì tipo goccioline si possono generare però se sei a terra avrebbe generato un tipo di impatto diverso a livello di BPA. Assolutamente sì. Quindi è strano cioè quindi l'oggetto il cacciavite quel che si era comunque non dico impugnato facciano l'incidente era comunque a mezza altezza no? Come si trovava lì al centro della stanza visto che c'era il letto il comodo al centro della stanza era vuoto fondamentalmente non c'erano altri oggetti o mobili sui quali fosse poggiato tendenzialmente qualcosa. No Piero è dal basso verso l'alto che il cacciavite viene conficcato. E sì guglielmo anch'io ho pensato al padre però cioè questo signore è stato tenuto sicuramente sotto torchio alla fine perché nascondere un incidente? Cioè non hai chiamato anche aiuto cioè poteva restare viva cioè magari ci stai che provi ad appuntare. Però cacchio dico io alle tre e mezzo del mattino cioè che cavolo tarmeggia le tre e mezza. Grazie perché sai che c'è l'appuntamento perché devi andare ad aprire la porta? No sto pensando per l'incidente no? Ipotizzano l'incidente perché cascare dal letto no perché le macchie non sono vicine al letto sono più nel centro della stanza quindi ci poteva stare che uno magari casca dal letto si agita colpisce qualcosa che era pulito tutto quanto non sono troppo. E se fosse stata qualche moglie o fidanzata tradita? Eh certo. Addirittura si è parlato di sai che è stato un una che è stato assoldato un sicario proprio che c'è stato un mandante proprio per queste vicissitudini movimentate livello personale e sentimentale. Cioè le ipotesi sono state fatte tante. Se io dovessi direzionarmi eh verso una pista eh ovviamente mi indirizzerei più verso quella sentimentale quella economica la l'escluderei proprio. Quella della rapina da finire male l'escluderei proprio. Quella del papà ma perché? Io ad oggi. Ah perché prima non ho concluso il discorso allora per concludere il papà è morto la pecca aveva settantadue anni quindi quel movente che ho detto l'ho detto in generale ma magari non è rapportabile a caso perché all'epoca aveva settantadue anni oggi il papà. Eh però questa cosa è interessante la sorella ha chiesto di non andare avanti con le indagini e ha quasi sempre rifiutato interviste. Esatto e questa cosa mi lascia come mi sono confrontata con Gio anche un po' a pensare sai ma la sorella è voluta sempre rimanere in disparte eh se io fossi un familiare comunque io mi batterei fino all'ultimo per rincorrere. Eh però magari di verità a meno che la sorella conosci la verità. Eh esatto. Vabbè anche perché eh visto parliamo di vittimologia un attimo lì vi ho lasciato qualche slide un po' nel background comunque di Mara dopo sono venute fuori delle cose diciamo un pochino eh poco piacevoli no? Per l'epoca no? Perché sembrava una ragazza tutta ad un pezzo invece poi è venuta fuori che comunque aveva eh le sue tresche, gli amanti, persone sposate, frequentavano. Eh ma probabilmente queste sono venute fuori apposta Giovanni. In che senso apposta? Eh conoscendo il periodo il novanta novantaquattro mi ho detto. Novanta tre. Novanta tre. Eh a quell'epoca dipingero una donna come una donna libertina a cui voleva un po' a dire vabbè se l'è cercata chissà cosa è successo chiudiamo tutto e basta e non a caso probabilmente anche la riduttanza da parte della sorella deriva un po' dalla vergogna che abbiamo parlato anche in un altro caso non so se ti ricordi un po' diciamo datato che a volte dico non è come oggi che abbiamo non so viene in mente eh la sorella di di Stefano Cucchi piuttosto che il papà di quel ragazzo che è morto a Ponza eh cioè comunque esatto genitori sorelle fratelli che dicono sì mio fratello mio figlio mio marito non sarà stato uno stinco di santo però è morto in circostanze tragiche e ne vogliamo giustizia e quella mentalità nel novantaquattro non era proprio così quindi probabilmente se soprattutto mi dici che eh questa cosa eh delle della paura di Mara non è emersa subito ed è emersa in un secondo momento a volte mi sembrano un po' studiate queste cose sai perché perché inizialmente la prendevano quasi sorride no come con una confidenza fatta tra amiche sai come di qua mo qualche volta a me qua perché mi ammazzano no tipo lo diceva ma come le hai fatto le indagini lei non aveva tanti amici quella frase prende un significato diverso perché poi quando Mara è morta guardi quella frase tirata fuori e ti inquieta col seno di poi certo non so se mi spiego cioè magari poi eh no soprattutto in casi di violenti come questi no il problema è che non hanno più potuto indirizzarsi da nessuna parte quello che mi è rimasto eh diciamo sempre un po' appeso no ritornando a quella famosa telefonata mi chiedo ma perché poi non si è riuscita a risalire la telefonata attraverso dei che adesso non c'erano i tabulati telefonici all'epoca non era possibile ah sì nei telefoni fissi sì ci poteva stare la quindi non lo so è rimasto sempre su questa cosa andrò a vedere però nel novantatreno scusa non era tracciabile la la telefonata che si aggiungeva a casa adesso non ricordo eh effettivamente se c'è stata ma però dovevi avere il telefono sotto controllo eh quindi questo non mi ricordo nel novantatrei dovrei eh dovevi avere il telefono sotto controllo non solo eh sì no c'erano i tabulati quindi si poteva risalire tranquillamente lì al al novantatrei questa cosa comunque è strano no se quella telefonata c'è stata chi era poteva essere un indizio c'è una pista da seguire la telefonata comunque era tardi che potenzialmente poteva essere la telefonata io non credo che però nel novanta quattro si poteva vedere sul telefono il numero di chi ti aveva chiamato e quindi diciamo richiesti al gestore io penso che questi tabulati siano del tipo del gestore io mi ricordo però non era il novantatrei mi ricordo che era il novantasette novantotto a casa mia arrivavano i tabulati perché essendo io un piccolo nerd più di qualche volta avevo chiamato a quei videogiochi fasulli che erano in televisione per combattere no e quindi mia madre a un certo punto si faccia manda queste cose dalla sip telecom come si chiamava all'epoca per vedere tutte le telefonate comunque non c'erano sto leggendo adesso non c'erano nel novantasette novantotto sicuro c'erano i tabulati perché li ho vissuti io da da piccolo monello che utilizzava il telefono per fare queste chiamate ai videogame e ce lo dice il caso di elisa claps e quindi ecco perché è rimasta e beh magari siamo a cavallo eh che magari c'è novantaquattro novantatrei non c'erano e poi c'erano il novantaquattro nel novantacinque però perché se lei comunque l'ha chiamata l'ha ricevuta ha parlato con qualcuno purtroppo quello secondo poteva essere la pista da seguire perché io credo che se questa telefonata sia avvenuta penso che sia avvenuta perché non non credo che la signora Maria avesse cioè motivo di mentire no anche sul perché poi se non sbaglio la signora che sente bussare il campanello è proprio la vicina quella lì che sente il campanello nella notte poco prima di sentire la stessa che aveva preso il caffè giusto vale ma non sarà stata lei tanto non sappiamo il nome la vicina mi scusi era una battuta eh dico però ehm sa tutto lei la telefonata la cosa la in casa con lei era in casa con lei hanno visto un film anzi addirittura lei era tranquillissima addirittura un po' anche stirato mentre tra una chiacchiera un'altra poi verso ecco l'undici e mezza riceve questa telefonata dice ma comunque non ha visto il suo sospetto nulla nulla di che però quella potrebbe essere un po' la chiave di lettura poteva essere la chiave di lettura però il tipo di ferita no cioè vi fa pensare che potrebbe essere una donna non ci sono indicazioni è un po' no ma l'ha capito cioè in merito però sulla modalità di sulla modalità di nel senso che un'azione troppo violenta perché ovviamente sono stati fatti anche degli studi di settore no scusatemi questo termine un po' banale in questo contesto nel senso che le donne magari non uccidono con delle modalità così violente ok quindi si è sempre detto la solita leggenda il veleno e quant'altro modi un po' meschini magari una cosa così violenta ha fatto tornare potenzialmente una donna sui suoi passi quindi non è andata fino in fondo in quell'azione omicidiale quindi ci potrebbe essere l'azione di una donna come dicevi tu potenziale moglie fidanzata di uno dei possibili possibili amanti può essere anche perché si è parlato non è il classico omicidio di ira di impeto no perché quello di impeto ti ti porta a colpire la vittima magari ecco più volte assolutamente proprio per la rabbia che si fa tutto quanto invece qui solo un colpo e bassa quant'era alta questa donna? 1,50 e qualcosa 1,55 era un po' perché comunque ragazzi c'è anche l'altezza della persona che l'ha colpita cioè per colpire la non è stato determinato non è stato determinato all'altezza della persona la bpa per esempio ti può dire delle cose in merito alle posizioni come però se lei era in piedi era in piedi e se lei era in piedi ed era un'alta un metro e sessanta cioè è particolare il tipo di ferita che ha ricevuto e poi solo un colpo ecco ripeto se fosse stato proprio un delitto di impenodiera secondo me ma poi non ha neanche urlato no ma colpisci così cioè esatto proprio hai in mano l'arma invece quello sembra più un colpo a tradimento mentre non se l'aspettava e quindi tu cerchi di non farti vedere per non farti fermare però per esempio vedi come dice Piero no? se fosse stata la vicina avrebbe detto al papà però lei dice solo babbo guarda cosa ce mi hanno fatto cosa mi hanno fatto senza mai indicare nulla cioè un nome è un nome un qualcuno non indico proprio nessuno poi parla al plurale non dice guarda che mi è successo aiuti nulla guarda cosa mi hanno fatto però quel cosa mi hanno fatto è come anche se è stata una singola persona è una persona che tu non conosci cioè io lo traduco così cioè guarda che mi ha fatto io dico guarda cosa mi hanno fatto proprio ad indicare un soggetto che non ti è familiare anche se parla al plurale anche se parli al plurale lo lasci al plurale e questa se io vado a fare un'analisi linguistica ecco qui adesso ci vorrebbe la Bea il guarda cosa mi hanno fatto è come dire guarda cosa mi ha fatto soggetto che tu non puoi conoscere cioè se devo dargli una lettura psicolinguistica no ma poco fa qualcuno lo diceva che usano il plurale non è stato nel dialetto guarda che mi hanno fatto pure a Napoli cioè pure se tu ti riferisci a una sola persona guarda che mi hanno fatto c'è il casino che scrive mi ha fatto entrare in piena notte una moglie o una fidanzata di un soggetto con cui aveva una storia beh magari era un'amica anche lei quindi se viene che vuole chiarire il problema è l'ora il problema è l'ora cioè se tu ti riferisci la pista familiare deve essere per forza la pista di un soggetto che lei attendeva in casa in Tardano extra familiare non penso sia riconducibile all'auto sì un amante un fidanzato un frequentatore però è strano che non abbia aspettato l'indomani però tu puoi anche aspettare qualcuno e poi invece arriva qualcun altro tipo? c'è in che senso? eh beh se io te sei amanti io aspetto te e invece viene Valentina che è tua moglie però tu vai ad aprire la porta ok? eh beh ma se io apro la porta non è che sto lì ad aspettare magari anche perché stai attento però in camera è stata colpita e non era vestita aveva il regista e non le mutandine eh beh però una volta che entri non urli perché se no anche se vedi che vedo tua moglie no? non è che urlo perché se no sente mio padre sente qualcuno quindi magari dico cosa vuoi non è che o penso che sei venuto per uccidermi ecco non credo che nessuno si aspetti che qualcuno anche perché se l'appuntamento programmato appunto come dice lei non mi aspetto che insomma venga lì per aggredirmi e uccidermi magari vieni perché vuoi delle spiegazioni eh il problema c'è tutto di notte viene faccia a quell'ora lì e allora cioè non è che è proprio presto eh beh ma ragazzi io non so voi eh non so voi ma io di scene di vita vissuta di di teatri tra fidanzati traditi e di di appostamenti di di persone fuori di testa ne ho sentiti e ne ho visti eh cioè di ragazze tradite perché magari stavano confidanzati che invece avevano tre vite e quindi si prendono a macchina partono e si presentano alle quattro di notte a casa dell'amante quindi non è così strano eh cioè anzi eh io ti seguo magari perché penso che tu mi tradisci e ti seguo e ti trovo a casa di dell'altra donna ora non so se questo è il caso però è proprio quando ci sono queste storie intricate che succedono cose non l'omicidio però queste sceneggiate un po' posso dire napoletane da una del sud ti offendi no no si dice sceneggiate napoletane però poi che cosa resta pure il fatto no ritorniamo a quel testimone che era insonno e si fumava la sigaretta sotto al palazzo quello che poi chiami soccorso non vede poi neanche nessuno uscire ah quello quello per carità no è strano però mudassi anche che in quel momento non prestava attenzione proprio al futuro è uno che non dorme è uno che non dorme e passeggia la notte non so quanto possa essere affidabile cioè io sarei arrabbiatissimo sarei proprio io sono d'accordo con Laura cioè a me quella collana mi fa pensare a un appuntamento galante chiamiamolo galà cioè perché uno non va a dormire con la collana a cinque fili al collo di corallo è una collana abbastanza importante importante ma veramente addirittura si pensava che lei dovesse uscire cioè non che la collana se la fosse messa in casa per ricevere qualcuno ma che doveva uscire con questa persona però è ancora più strano cioè le tre notte è uscire no è anche un piccolo centro non è che dove vai di nascosto uscire oppure stare nei paraggi di casa sua magari a parlare lì sotto e dimetti la collana però non è stato detto se ce l'aveva già prima in che senso già prima cioè durante la sera la sera aveva la collana non lo so su questo dettaglio non ho trovato nulla no no insomma era una collana abbastanza vistosa non che passavano a servare sì perché poi non so se l'avete mai visto come son fatte cioè comunque non ci vanno con quella collana perché è fastidioso no non ci vai a dormire cioè nel senso non lo so Pietrangeli tu senti c'è molto caldo e ti metti la collana per quello si pensa che aspettasse diciamo qualcuno per un incontro calante ti fai bella per quello magari era un regalo della persona con cui doveva vedersi non lo so e poi però tornerebbe no pensiamo il fatto che vi dicano io aspetto lui si presenta lei quindi magari sono insieme guarda che mi hanno fatto colloca dei soggetti in senso letterale guarda che mi hanno fatto perché io do appuntamento a te si presenta lei e lei mi ammazza mi hanno fatto che però per carità che possa essere una questione dialettica ci sta non è però potrebbe anche non esserlo ha incontrato una persona che non si aspettava sì secondo me assolutamente perché comunque il colpo dato in questo modo sembra un colpo dato di sorpresa da una persona che nasconde probabilmente il cacciavite e quindi piuttosto che fare così che tu mi blocchi e poi dobbiamo combattere io lo nascondo e te lo conficco dalla parte sotto quella è il modo in cui io lo immagino e ci può stare perché esatto e per questo l'ho pensato una donna perché magari un uomo la paura che una che una ragazzetta come Mara mi possa bloccare se prova a colpirla non mi sembra diciamo non mi sembra che si possa porre il problema no forse mi sto immedesimando troppo nell'assassino però se dovessi colpire qualcuno eh però ci pensi no se io sono un'imbranata non ho mai ammazzato nessuno e non è una questione di impeto perché mi hai fatto arrabbiare in quel momento ma io vengo con l'intenzione che ti devo uccidere io ci penso che se faccio così tu mi blocchi il braccio e poi magari ammazzi meno e invece se se ti voglio fare del male quindi comunque vengo per ammazzarti anche perché non hanno chiacchierato non hanno fatto niente se no si sarebbe svegliato il papà avrebbero fatto più cose quindi io sono venuta per darti per ammazzarti e quindi io cerco di avvicinarti il più possibile senza farti rendere conto dell'arma e quindi quando tu sei abbastanza vicina bam io lo immagino così però mi è da pensare a una donna perché un uomo credo che non si farebbe questo problema o magari anche un uomo lo fai per evitare che urli così non se ne accorge non non fa però l'impellenza no di andare lì quella notte e ucciderla quella notte mi fa pensare a a un gesto di rabbia una vendetta un qualcosa una situazione che non puoi gestire quindi io tornerei all'idea di prima non so se vi comincio la mia ipotesi una situazione ormai diventata magari scomoda per più persone capito sì e lei una figura ahimè di troppo sì cioè una sorta sembra brutto dirlo però di triangolo alla fine sì va eliminata perché comunque si è insinuata in un contesto in cui non deve stare va eliminata perché magari sa determinate cose o perché sta andando oltre e non si vuole fermare cioè la vedo un po' un po' così e do priorità comunque all'ambito assolutamente sentimentale perché secondo me visto quello che era emerso nell'ultimo periodo nulla ci dice che ci potevano stare anche altri contesti che comunque non sono stati approfonditi eh la gravidanza comunque non è da poco no perché perché magari anche per la gravidanza lei magari aveva anche ricattato questa persona cioè ricattato e poi è un momento di ricatto però non lo dico con cattiveria però magari sai nella rabbia di una relazione magari in cui tu hai creduto lo fanno tantissime donne o uomini assolutamente sì adesso tu non mi vuoi più io ti rovino certo una cosa ad esempio che eh che mi pare di aver letto è che comunque eh quest'uomo sposato l'unico che è stato sentito ha negato di aver avuto una relazione con lei no? esatto esatto giustamente giustamente ma no perché se tu lo dici agli inquirenti non è che gli inquirenti poi vanno fuori dicono ah sì ha confermato che avevano avuto una relazione no? cioè è che ci vai con tua moglie quindi tu potevi anche dire la verità e poi negarla a tua moglie all'epoca non ricordo come funzionasse però se lo fai oggi sì viene fuori tutto no? abbiamo visto parecchi casi oggi è facilmente insomma da scoprire che comunque le relazioni extraconeucorali con tutti cioè vedi anche oggi è vero che è stato lui a parlare una prima di serpina no? che ha tirato fuori tutta la storia che aveva fuori alla quale io credo eh cioè ci credo ciecamente a quello che dice quell'uomo sulla loro relazione però per dire vengono fuori tanti aspetti della vita con le indagini oggi ancora di più sì comunque allora per rispondere per quanto l'ipotesi di Monica sia anche abbastanza concreta direi non è stata mai presa in considerazione non c'è nessuna pista del genere nel caso di di Maragallista non c'è nessuna pista proprio a parte il padre no? no avevano pensato un pochino dell'amante ospitata a casa all'appuntamento però sempre in maniera molto aleatoria senza mai andare a trovare un soggetto ma non li hanno cercati questi amanti fondamentali non sono no li hanno cercati ma non sono riusciti erano diciamo ombre senza volti senza nome erano stati racconti alle confessioni capito? venivano da fuori? ma non lo so perché come si fa in un piccolo paese? perché andava proprio così cioè Mara confidava l'amica e qualche volta tipo ma ammazzano perché c'è un sacco di trischi con questo 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 ma questi soggetti non venivano identificati come magari uno parla con un amicato lo stesso con un uomo sposato però non gli dici chi è vabbè ma non sono state fatte le indagini ragazzi perché no ecco perché dove si andava questo sono state fatte le indagini del 93 e vabbè ma nel 93 non è che il 93 si pigliavano già i boss mafiosi però eh cioè per me sono state fatte molto con l'acqua di rosa mi dispiace cioè scusami va bene che non sai il nome però non ci saranno state le telecamere però in un piccolo paese dove andavano non la vedeva nessuno fuori anche perché se non erano del suo paese la conoscevano tutti erano dei paesi vicini insomma voglio dire dove se ne andava sì uno era un ragazzo di Terni come diceva Lucia però non era tra non era tra i soggetti quelli là qualcuno doveva saperlo per forza la persona quella la più grande di lei comunque era un medico un libro professionista anche abbastanza conosciuto nella zona poi ripeto lei essendo molto attiva cantava nel coro faceva parte di di attività sportive che facevano anche molto trekking quindi di persone ne conosceva veramente tante e magari poteva stabilire secondo me anche più legami contemporaneamente sinceramente essendo una persona non impegnata a livello ufficiale aveva comunque le sue storie in ombra per carità però vedi Lucia dice uno si sapeva uno dice che era di Terni dice che aveva una golf e poi soprattutto se non c'entra niente se non te lo chiede nessuno non te lo chiede nessuno ma se un giorno chiamano in caserma un ragazzo che ne so di 30 40 anni che magari ha semplicemente una fidanzata non per forza quattro figli a casa e ti dicono ma tu hai una relazione con lei che fa non è che tutti mentono soprattutto se non hanno niente da nascondere secondo me se lo cercavano magari lo trovavano qualcun altro si si avrebbero avuto anche molte informazioni in più indubbiamente poi come è finito il sangue ma se fossero state le due persone ipotizzate da Monica ma poi come è finito il sangue nel cassetto ma che se fosse una singola persona bah ma ragazzi il sangue del cassetto però è anche vero che han provato ad aiutarla quindi il sangue di di mala ce l'avevano tutti ma poi chiunque sia stato come c'è finito quel sangue lì anche perché poi sono dentro quella casa ha dato un allarme sono entrati tanti condomini anzi addirittura si sorprendono come alcune tracce di sangue sono rimaste esatto rimaste incontaminate però lì c'è stato un via vai sulla scena del crimine quindi di passaggi ce ne sono stati magari provi a toccarla poi provi a cercare delle bende per tappare la ferita e quindi magari con le mani sporchie di sangue tocco il cassetto cioè non è difficile e forse anche per quello poi non le han prese più tante in considerazione però è il caso quando l'hanno definitivamente diciamo archiviato ha chiuso il 2001 è il 2001 è stato fatta l'ultima indagine però se anche la sorella non ha mai diciamo spinto a me sorprende un po' questa dico la verità ridicenza da parte della sorella poi come ha detto Monica prima può darsi che alcuni familiari parenti delle vittime usano anche come uno strumento di difesa per carità però mi sorprende molto questa sua ridicenza molto molto a differenza di altri casi che fino veramente all'ultimo respiro all'ultimo giorno si battono per tentare di riaprire i casi di scoprire le verità e questa cosa mi lascia un po' pensare come se voressero c'è basta il successo occultiamo un po' quello che poteva essere la vita nascosta di Mara non lo so mi dà questa idea insomma mi dispiace che nessuno si sia battuto più di tanto per lei allora Guglielmo si tiene traccia di chiunque sia intervenuto sulla scena quindi addirittura si prendono i profili genetici e poi per comparazione e per esclusione si vede effettivamente quali sono i propri soggetti estranei quindi viene tutto documentato chiunque abbia avuto accesso sulla scena anche il semplice vicino di casa perché ha corso in prima battuta sentito le urla le altre richieste d'aiuto quindi sulla scena del crimine prima della polizia scientifica arriva la qualunque compresi soprattutto i sanitari lasciano sempre i loro quindi vengono identificati a priori e dopo si fa il confronto per esclusione o per situazione o differenza come dici tu quindi sono tutti identificati i soggetti se non c'è riscontro i profili genetici vuol dire che un soggetto estraneo quella cerchia di persone che hanno avuto accesso a quella scena del crimine Piero voglio rispondere a Piero Piero questa ipotesi non può essere cioè l'assassino se ne è andato immediatamente perché come dicevamo prima e come spiegavano loro quel tipo di ferita ti dà pochi secondi quindi nel momento in cui lei fa quei passi cioè va a svegliare il papà era appena successo quindi l'assassino non ha avuto il tempo perché sennò l'avrebbero sentito il papà anche se non lo vedeva avrebbe sentito la porta avrebbe sentito dei rumori invece non ha sentito nulla quindi l'assassino praticamente colpisce e scappa non è neanche da escludere che qualcuno l'aspettasse ecco sì quello che stiamo un po' dicendo sto leggendo quello di Kega insomma della reticenza da parte della sorella no un po' come se volesse ormai insabbiare un po' questa quella che poteva essere pure una vita nascosta una seconda vita da parte della sorella chi lo sa però è una mentalità diversa ragazzi cioè voi immaginate no e mi dispiace prenderlo ad esempio però è chiaro Alice Neri no voi pensate Alice Neri oggi e il marito poverino va e si fa intervistare e cerca giustizia il fratello la difende la mamma la difende e chiaramente questa donna va difesa è morta in una situazione tragica però è chiaro che ogni giorno esconde le notizie e noi tutti restiamo lì diciamo ma questa ragazza che ci aveva in testa ma non nel senso di critico perché se la si è cercata ma perché comunque atteggiamenti un po' strani immaginate quello che è successo a questa ragazza se fosse successo anche solo dieci anni fa non vent'anni dieci anni fa non ti dico che non cercano giustizia ma sicuramente c'era più un senso di vergogna che anche adesso c'è perché ragazzi i commenti li avete letti no? che ci fa questa ragazza alle tre di notte in mezzo alla strada la bambina stai a casa con tua figlia quindi dico ci sono ancora oggi però mentre c'è un commento del genere ce ne sono altri dieci che dicono non c'è niente di male lo faccio anch'io prima il senso di vergogna era molto può essere che sia solo la vergogna che ha spinto la sorella stare un passo indietro o può essere pure che in verità sappia più o meno cosa è successo e quindi va bene così e torniamo all'ipotesi del padre che diceva Piero Montanelli però io non ci credo perché credo che indagato due volte a meno che l'interrogatore non gliel'ha fatto Topolino dico ma poi è difficile senza tra virgolette le cosiddette prove tangibili che abbiamo oggi ma solo basarsi però sai che l'hai voluto ammazzare non credo perché dico la vicina e tutto quanto penso che se ci fossero stati rapporti tesi qualcuno avrebbe raccontato se torniamo al padre torniamo all'ipotesi di un incidente avvenuto col padre e quindi perché nasconderlo cioè hai il dolore della figlia morta che l'ha ammazzata tu il senso di colpa ci provi però secondo me poi lo racconti e poi io un uomo che uccide così non ce lo vedo proprio io un uomo che usa molta più violenza rispetto a questa dinamica infierisce sul corpo più volte generalmente bisogna contestualizzare ricorda Piero Mangio bravo guglielmo hai fatto proprio un esempio quasi se la cercava Piero Mangio è una di quelle che secondo gli inquirenti abbiamo saputo di recente quasi era colpa sua e ancora oggi molti lo dicono e lo pensano e quindi sembra quasi che quella fosse una bambina di serie B da non cercare perché era una figlia illegittima e gli anni erano quelli là quindi figuriamoci lo ha fatto ecco Lucia vedi che dovevi venire con noi stasera lo ha fatto parliamo della sorella di Mara anche per i figli che hanno avuto un trauma tremendo visto che erano molto legati alle zia non mi convince come come spiegazione però beh ci può stare anche che sei stufa di sentirti sempre chiamati in caso gli inquirenti giornali a un certo punto dopo magari trent'anni ti sei scocciato vedi che non c'è una via d'uscita non c'è chi più non tutti reagiscono ma quanto pare da tutti da sempre ma diciamo che lei forse sin da subito si è poco battuta per cercare la verità io ho vista una da sempre molto dietro le quinte non lo so non per non lo vedo come un senso di protezione verso gli altri familiari ripeto lei è una mia opinione personale avrebbe visto un'altra ragione di questa chiusura un po' arriccio me l'ha detto in un'intervista Lucia vedi non lo so ragazzi sicuramente è un po' strano però io penso una cosa ad esempio e poi possiamo anche salutarci per questa sera io non sono una di quelle che devi avere giustizia barra vendetta a tutti i costi soprattutto quando si parla comunque di delitti che probabilmente non verranno mai ripetuti non parliamo di persone socialmente pericolose a volte è così se pensiamo ad esempio all'omicidio colposo però quando parli di una situazione del genere non è tanto cercare giustizia per tua sorella moglie marito ma è proprio per cercare di togliere dalla società un soggetto pericoloso perché chiunque sia stato cioè sta ragazza non ha fatto niente di male quindi dico se parliamo di omicidio se parliamo di di un omicidio appunto stavo pensando un'altra cosa non è che cioè sta ragazza non ha fatto niente di male come hanno ucciso lei qualunque sia stato il momento possono uccidere qualcun altro quindi è un dovere per quello l'azione penale viene dall'input dello Stato perché non è il problema se hai ammazzato mia sorella non mi va bene cioè vai punito comunque e quindi io credo che cercare giustizia per la sorella non è un dovere non si può diciamo trascendere da questo perché c'è un assassino in libertà fondamentalmente probabilmente quindi non lo so Lucia poi ognuno avrà i suoi motivi magari a volte c'è la vergogna non sarebbe il primo caso e io questo non lo giudico però penso sia più onesto è un po' come è un'altra storia che è successa del genere è quella che ci hanno raccontato Isabella e Roberta la storia di Roberta Martucci non so se la conoscete e se avete visto se non l'avete visto ripescate il video su youtube c'è una sorella che si batte per Roberta e il resto della famiglia si oppone si oppone non si capisce se è perché sono convinti della estranità dei fatti del cognato e credano fondamentalmente che la figlia veramente se ne sia andata per i fatti loro o non so perché va bene che difendi il cognato però quantomeno vuoi comunque trovare chi l'ha uccisa invece credere addirittura che si sia allontanata da sola e si trovi in un altro stato in un'altra parte o che abbia fatto una brutta fine perché se l'è cercata è tremendo però anche lì penso che siamo in quegli anni con Roberta Martucci sì presto a poco sì quindi diciamo non sarebbe la prima volta guardala penso anch'io come te sì Lucia lo avevo capito sono contenta del contributo che ci hai dato questa sera perché ci hai dato delle notizie di prima mano insomma hai proprio intervistato la sorella avrei paura che se chiedo di riaprire le indagini mi uccidono pure a me ma no addirittura no Piero no chiedilo noi le facciamo riaprire noi c'è gente che ha paura di essere ucciso per molto meno però che se le inventa anche però diciamo che in generale sono poche le persone che si aspettano di morire e poi vengono ammazzate lo stesso in genere succede a quelli che fanno del male agli altri e quindi sanno che si mettono in situazioni scomode e quindi se le aspettano in generale le persone innocenti muoiono senza preavviso diciamo a meno che non parliamo di femminicidi però anche lì è tutta un'altra cosa però non ti preoccupare Piero se ti uccidono non ti preoccupare avrai un avrai un team di prima scelta ad indagare sul tuo caso la tua raffinatezza grafica nelle slide dove mettiamo su questa piattaforma su facebook non c'è come possiamo fare no ma arriva nelle serate in cui sono presente vi presentiamo qualche caso ce la mettiamo la slide solo che adesso questa è la nuova grafica di crime doors quindi ce l'avrete sempre guglielmo tutti si è perso la prima parte perché si è arrivato in ritardo e quindi si è perso le novità e te le facciamo spiegare da Piero che è stato attento dall'inizio ma stavo raggiungendo per usare copertare la sua sì Piero lo sappiamo stiamo un po' scherzando perché ormai siamo in chiusura e volevamo un po' a leggere l'argomento non riesco a leggere abbiamo cercato Valentina sì mi sono commossa ma veramente non so cosa mi sia preso ora vado a rivedere bravo guglielmo ragazzi è stato un piacere gli auguri non ce li facciamo perché ce li faremo tramite i social ah no poi c'è giovedì però ci sei giovedì sì no ci sono giovedì io ero già in vacanza no ero in vacanza giovedì però Piero non ci viene su facebook ha detto che ti fai il contatto quindi vieni ci vediamo giovedì e poi comunque gli auguri ce li facciamo si sojan no va bene su facebook su telegram su instagram dovunque volete noi però intanto ragazzi l'abbonamento noi non ve l'abbiamo mai chiesto figuriamoci però andate a mettere mi piace sulla pagina sul canale youtube aspetta infatti su youtube venite a seguire che non c'è ancora neanche un video però il primo sarà questo adesso ci ingegniamo un po' però aiutateci a crescere almeno su youtube e niente ci vediamo giovedì possiamo chiudere anche perché valentino giovedì su facebook pagina dottoressa roberta bruzzone quindi l'appuntamento della diretta è lì tutti giovedì ore 21 immancabili su facebook lunedì twitch ok ma non lunedì prossimo che è santo stefano poi c'è capodanno poi ci vediamo dopo un nuovo anno giovedì è l'ultimo dell'anno ci vediamo il 9 gennaio direttamente quindi 22 ultima puntata 2022 e poi ci vediamo il 9 gennaio e vi porteremo anche un altro cool case così poi facciamo un po' come stasera che è stato divertente non credete a parte i cannibali che Giovanni ci tiene molto io non ci sarò la sera dei cannibali dai Gio sì dai 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 la sera dei cannibali ragazzi buonanotte grazie sempre grazie alla vostra partecipazione esatto ciao ragazzi grazie a tutti ciao ragazzi ciao 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 ciao